Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al financial update di marzo 2022 che è anche financial update del primo quarter del 2022 questa volta non è in live, lo sto registrando perché non sono riuscito a farlo a fine marzo in live e chissà quando riuscirei per cui lo registro e va bene così cercherò di essere un po' più conciso perché non ho molto tempo e farò poco, pochissimo editing per cui vi prenderete tutti quanti gli em, gli em, um le mie cliccate e così via sarà più o meno solo marzo anche se accennerò a qualcosa degli altri due mesi gennaio e febbraio o comunque i mesi di gennaio e febbraio potete trovarli sul mio canale quindi se siete curiosi dei dettagli di quel mese andatele a vedere però un piccolo sguardo d'insieme al quarter glielo diamo benissimo, per chi me l'ha chiesto già 100-200 volte vedo ancora molti commenti a riguardo sì, farò il prima possibile, la prossima live serie che farò sarà il Financial no, il Investing from Zero to Hero parte 2 anzi in realtà volevo fare anche di più volevo fare una parte 2 ancora su ETF, Broker, Asset Allocation come arrivare proprio a fare gli acquisti e poi volevo fare una parte 3 sulle Stock Options perché sto investendo molto in Options ultimamente prima che dite la vostra, aspettate a vedere la serie non sto facendo trading di Options per fare i miliardi ma sto usando le Options come strumenti difensivi e volevo anche fare un'altra live sui Bond sì, lo so che dopo le Options i Bond sono un po' diciamo... però sono cresciuto con Game of Thrones dove la penultima puntata era il Climax e poi l'ultima era sempre più Mosha quindi faremo anche una puntata sui Bond perché penso che sia interessante la matematica che c'è dietro ok? bene, cominciamo allora, siete pronti? si va, si vola direi che come prima cosa partiamo dal... direttamente dal risultato finale che è, che è, che è, che è il patrimonio in franchi svizzeri che è la currency di riferimento nel mese di marzo è cresciuto notevolmente notevolmente è cresciuto abbastanza 42 più 42.270 franchi senza troppi trucchi contabili tra l'altro e in euro ancora di più in quanto l'euro è stato currency più debole e anche in dollari rendendo tutto il quarter positivo tutto il quarter positivo ok? questa è la prima notizia così va subito andiamo subito a darci dentro con l'alcol per chi si aspettava un mese dov'è qui? un mese da Amaro Verna invece no questo qui è un mese da Singleton Singleton Scotch Whiskey però siccome sto registrandolo che è ancora ora di pranzo non berrò mi limiterò a bere una Coca Cola e quindi cheers anche se forse fa meno male il whisky della Coca Cola vabbè comunque per chi mi conosce sa che il mio whisky preferito in realtà è la Gavulin invece che ho 16 anni quindi se dovete farmi un regalo sapete come muovervi però ho il Singleton e quindi via ciao ciao la Amaro Verna lo teniamo perché fa sempre le compagnie la damigian di Amaro Verna quindi bel mese bel mese bel mese a cosa è dovuto questo bel mese essenzialmente i mercati si sono un po' ripresi i mercati si sono un po' ripresi come vedete nel quarter il mio etf di riferimento mondo comunque è ancora sotto del 5,8% ha rilasciato dividendi per cui qualcosa è rientrato è un etf a distribuzione perché è domicilato in America Vanguard VT quindi nell'ultimo mese è recuperato 1,63% ma da inizio anno è ancora sotto del 5,8% per mia fortuna la mia asset allocation è principalmente in value e high dividend il value factor in realtà in questo quarter in cui il mondo comunque ha avuto un po' scossoni il value factor ha resistito molto meglio come ho sempre un po' congetturato però diciamo che in questa circostanza è stato più vero del solito e quindi in realtà i miei etf Vim Vimi e VTV sono tutti quanti positivi year to date in più hanno rilasciato dei simpatici dividendi per cui non male non male il total return è piuttosto interessante in un periodo burrascoso avere il grosso dei miei etf che vanno su è stato piacevole in particolare il VYM questo mese e il VTV quindi value e high dividend americani hanno fatto più 2% più 2,73 value più 2,16 high yield e anche l'internazionale quello che da inizio anno è quello che ha tenuto meglio il VYMI Vimi lo chiamo Vimi per semplicità ha tenuto abbastanza bene sta anche in positivo e da dividendi piacevolissimo molto interessante c'è nel resto c'è nel resto qualcosa di un po' dark ora andiamo un po' a vedere in dettaglio in dettaglio lo stock picking non sta andando un gran che bene se escludiamo da buona vecchia coca cola allora le operazioni che ho fatto in ambito in ambito investimenti sono quasi nessuna solo cose stupide ho fatto ho comprato come ho detto in un video che è uscito forse un paio di giorni fa ho comprato erus che è un etf di i share su russia mcsi russia index che proprio non è che proprio sia andato un gran che bene come mostravo nel video qualche giorno fa il i share mcsi rush etf erus che qui è indicato ha avuto un crawl già era un etf che tradava piuttosto basso rispetto ai fondamentali aveva un price to earning ratio molto basso la russia e quindi stavo un po' seguendo anche da prima degli eventi bellici quando è crollato da circa 40 fino a 8 qui sotto questa è 10 questa riga tratteggiata a circa 8 ho fatto basta che ti dico io due soldi ce li metto dovesse riprendersi la russia non finisce dovesse riprendersi potrebbe avere un buon guadagno e quindi ho comprato 1000 share di questo etf a prezzo 760 quindi 7600 dollari il giorno dopo che le ho comprate hanno chiuso le contrattazioni cioè non è più tradabile in questo momento il mio broker interactive brokers che tra l'altro è anche c'è il link mr.rip slash ib qua sotto ho un contratto di affiliazione con interactive brokers quindi ad ogni click che fate ricevo dei dovrei ricevere dei soldi poi ne parliamo dopo comunque da quel momento in poi dopo che io ho comprato non era più tradabile quindi in questo momento mi trovo 1000 share di qualcosa che non posso vendere non posso non posso far nulla e se andiamo a vedere erus ishare sul sito di ishare al momento erus è listato a un valore che non capisco bene quanto sia effettivamente corrispondente a verità non ha molto senso questo numero immagino immagino che in realtà significhi soltanto che al momento non ci sono offerte non c'è market making per cui boh non sappiamo il problema è che hanno anche detto che da qualche parte è arrivata una 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 comunicazione tramite interactive brokers che in questo momento il fondo purtroppo ha dovuto non sta investendo in quelle stocks ha dovuto liquidare alcune posizioni quindi non so bene cosa accadrà quando si riprenderà il fondo quindi probabilmente ci sarà un po' di tracking error e quando un domani sarà la Russia non sappiamo che succederà ovviamente parliamo di ipotesi quando dovesse riaprire le contrattazioni può darsi che il fondo non sta tracciando l'indice perché non ha le stocks in mano in questo momento quindi penso di aver buttato 7000 dollari è stata una scommessa una speculazione che spesso non va a buon fine va bene così si impara dagli errori o quantomeno lo scopriremo poi vivendo quindi al momento lo traccio google finance ancora traccia eros a 8.06 interessante eros google finance vediamo un po' eccolo qui 8.06 non tradabile come vedete se andiamo a vedere non so gli ultimi 6 mesi no data eccolo qui da 40 andiamo a vedere non so 5 anni in realtà la Russia era ai minimi vedremo se comprandola ai minimi ai minimi di sempre tra l'altro penso dalla prima guerra mondiale se avrà funzionato oppure no temo temo che ho buttato dei soldi in una trita carne pazienza però ho fatto anche ho fatto anche altre cose interessanti in questo mese l'ultimo altro acquisto è stato comprare ancora un mezzo chilo della mia troll stock della mia meme stock check che aveva perso buona parte del valore a febbraio e quindi ho comprato altre 3.800 share così ora ne ho 20.000 tonde tonde è una compagnia che sta producendo delle capsule per diagnosi di cancro nelle parti diagnosticabile via ingestione di una capsula e così via tecnologia interessante su cui credo ho sempre creduto prima ancora che esistesse ho detto perché non si fa così per diagnosticare questa azienda lo sta facendo purtroppo non ha un business molto solido esiste da troppi anni e sta in crollo e a quest'ultimo crollo ho comprato ancora per arrivare a cifra d'onda 3.800 share a 0.4 dollari quindi ho investito altri 1.500 dollari e ora ho 20.000 share il cui valore totale è 7.800 dollari e il cui prezzo d'acquisto è tipo 14.000 quindi al momento altri 6.000 dollari buttati al cesso se non succede quello che deve non succede ma se succede non succede ma se succede tristemente queste due operazioni quindi l'acquisto di una troll stock e l'acquisto di 1.000 share del MRCI Russia sono tutte le cose che ho fatto in questo trimestre questo trimestre per chi mi conosce sa che è molto impegnativo su tanti punti di vista professionale creativo familiare soprattutto familiare e non è che ho molta testa per star lì a fare ottimizzazioni o investimenti ho anche un cash flow molto più stretto per cui non ho tutto questo cash flow e quindi lascio che la la barca viaggi di inerzia di vento vento in poppa se ce n'è benissimo ho indicato anche di menzionare le options e parliamo un po' di options perfetto dal punto di vista delle options andiamo a vedere un po' questo report su Interactive Brokers questo è il mio activity statement di marzo e in marzo possiamo vedere le varie trade e come vi ho detto appunto check e eros qualche fee perché a prezzi bassi i fee sono alti a prezzi a prezzi di individual share sono un po' troppo alti fastidiosamente alti e per il resto ho fatto molto molte options mi sto un po' appassionando del mondo delle options inteso come appunto come difensivo cioè come uso io le options ci farò una una live apposta ci farò una live apposta e al momento non vorrei che qualcuno cercasse di copiarmi perché ok copiarmi sul cioè non copiatemi non copiatemi copiatemi sulla parte seria del mio portfoglio non sulla parte meme non sulla parte options perché sono strumenti con cui si può far molto male ok options la mia strategia in genere è ogni volta che ho l'intenzione di fare un acquisto su qualcosa che ritengo sottoprezzato non faccio tutto lo studio necessario per decidere se è sottoprezzato però se dico sai che io le facebook share a questo prezzo le comprerei a quel punto io ci vendo una put quindi vendo put options su cose che comprerei a quel prezzo e quindi se poi in genere vendo put options a una settimana o due settimane se poi l'asset scende sotto quel prezzo quindi la mia options va in the money decido se comprare o se rollare l'options per altro guadagno per spostare più in là la deadline assumendo altri rischi ovviamente non c'è nessun free lunch quindi non c'è detto guadagno sono la loro sbagliata al momento ho venduto options su baba su facebook raccogliendo essenzialmente soldi da terra e anche su gamestop su gamestop in realtà le vendo da più di un anno ogni tanto gamestop quando ha volatilità molto alta vendo la paura quindi sto lì a vendere assicurazioni a chi ha paura essenzialmente ho venduto un paio di options ne ho venduto anche un'altra recentemente per 100 dollari 50 dollari ovviamente se il prezzo crolla poi mi trovo a dover comprare o a dover rollare ne parleremo poi con calma un'altra volta e per quanto riguarda coca cola mi trovo in una posizione in cui ho venduto delle covered call per riassumere poi ne parleremo approfonditamente in una live apposta io vendo o cash covered put oppure delle covered call significa sempre che comunque lavoro non a margine mai a margine sempre coperto coperto o dai soldi o dall'avere delle stocks o degli ato o degli etf io vendo al momento non compro options vendo sempre scrivo si dice talvolta in inglese quindi vendo put e vendo call vendo call su cose che ho cercando di replicare la strategia covered call ne parleremo un'altra volta e vendo put su cose che non ho ma che comprerei a quel prezzo cercando di guadagnare i premium assicurativi oppure fare acquisti a basso prezzo per una definizione di basso che gli efficientisti quale io sono mi prenderebbero a cazzotti in testa questo mese l'andamento con le options è stato particolarmente buono troppo buono perché c'è stata una options grossa di se non sbaglio di VT eccola qui ho venduto molte options di VT che però sono ancora aperte e che quindi hanno un loro valore corrente se VT sale troppo vanno in the money e quindi al momento ho solo incassato ma dobbiamo capire un po' bene che significa detto questo se guardiamo trimestralmente questo è il report trimestrale trades eccolo qui solo gli acquisti quelli quelli di qualità lato options ho molte più molte più operazioni fatte molte molte più un po' troppe a sto giro può darsi che il tax autori di Svizzera potrebbe farsi un po' storcere il naso e dai leviamo lo sponsor ma il saldo complessivo è positivo di un paio di mila franchi niente di superlativo è probabilmente anche una questione di relativa fortuna però però vendendo put in un periodo in cui il mercato crolla essere positivo mi fa ben sperare che questa roba qui ha senso il problema delle options è che i fee sono in genere piuttosto altini 50 dollari di fee in questo quarter non sono pochi non sono affatto pochi per i volumi movimentati su 5.000 dollari di volume 50 di fee è l'1% i fee delle options sono molto fastidiosi mentre i fee delle stocks su Interactive Broker sono a mio avviso eccellenti purtroppo non vale quando le stocks hanno un valore molto basso nominale della stock e per cui ogni compravendita comporta più stocks a parità di costo a parità di valore investito e quindi i fee possono essere fastidiosamente alti e infatti nell'ultimo quarter i fee dalla compravendita di stocks ed ETF sono stati fin troppo alti rispetto a quanto ero abituato quando compravo essenzialmente soltanto ETF ragionevoli e non trollate russe benissimo detto sulle options ci torneremo approfonditamente ok piccola parentesi su Interactive Brokers come ho detto già e lo ripeto ho un rapporto di partnership con Interactive Brokers sono un affiliate partner bla 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 prendo dei soldi se voi cliccate sul link non se se voi create un account un accordo come ho detto più volte mi sembra un po' strano too good to be true e quindi oltre ad invitarvi a cliccare sul a digitare mr.trip slash ib anche solo per andare a dare un'occhiata a come funziona Interactive Brokers nell'episodio investing from zero to hero parte 2 vedremo approfonditamente su come io lo uso come io compro compro cose metto ordini e così via ho da poco creato un nuovo account su Interactive Brokers quindi ho un secondo account e voglio in realtà crearne di più di account perché voglio diversificare ogni account per un ruolo in particolare voglio avere un account che è l'account serio quello con cui faccio investimenti per la mia pensione voglio fare un account un po' più cazzone quello con cui faccio acquisti troll voglio fare un account per la vendita di opzioni per le put essenzialmente le call le vendo nell'account quello serio ovviamente e e vorrei fare anche altri due account sì lo so voglio fare tipo 5 account su Interactive Brokers il quarto account voglio che sia l'account per le mie figlie a mio nome ma voglio ogni mese investire una piccola parte per il futuro delle mie figlie e il quinto account è quello che dovrebbe interessarvi di più il quinto account sarà l'account Mr. Rip cioè l'account in cui depositerò percentuale dei soldi che ricevo dai vari referral che mi arrivano grazie ai vostri aiuti cioè ad esempio ho varie affiliazioni e alcune di queste qui sono affiliazioni business come quella con Interactive Brokers io pensavo che circa il 50% perché poi dei soldi che ricevo da Interactive Brokers ho da pagare delle tasse ho da li riceve la mia GMBA la SRL di Svizzera si pagano corporate tax si pagano quando le dà tasse un 50% per essere sicuri voglio prenderli e metterli su questo conto Interactive Brokers di Mr. Rip da far gestire alla community cioè devo ancora pensarci bene come si può fare magari a ogni fine mese un sondaggio quale stocks ci compro con questi soldi quindi i soldi dei referral li investiamo a cazzo di cane e sarebbe anche figo ma devo capire la formula restituirli in qualche modo alla community quindi o facendo tipo un contest e chi vince prende dei soldi ma penso che sia complicatissimo dal punto di vista fiscale penso che sia complicatissimo dal punto di vista legale cioè non lo so non lo so come funziona oppure potremmo decidere di donarli a delle cause che ci interessano però vorrei far partecipare la community sia su come investirli i soldi dei referral sia su come utilizzarli mi piace moltissimo questa cosa qua per rendervi più partecipi quindi se avete dei feedback lasciatemi tranquillamente qui e se volete che questo conto cresca e che ci siamo più ciccia da movimentare e da investire e poi eventualmente donare a qualche cosa che ci piace bene sapete dove cliccare sapete che link seguire e dai 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 quanti soldi ha fatto RIP fino adesso con il link affiliate di interactive brokers ci arriveremo tra poco però spoiler alert il primo mese febbraio è stato pagato recentemente e sono stati 2418 dollari mica male mica male quindi di questi 2418 la metà 1214 li metterò nell'account interactive brokers nel quinto account che creerò e magari spero da maggio adesso è difficile in aprile ma da maggio vorrei cominciare ad investirli come dice la community quindi non lo so compra questa stock compra quest'altra sarà divertente bene bene questo che vedete è transferwise è un altro un altro strumento finanziario perché non avevo abbastanza che sto usando come retari in progress come GMBA per gestire pagamenti in currency che non siano franchi svizzeri anche con transferwise ho un accorto di partnership di affiliation e c'è un link che troverete in descrizione al video che fa sì che se voi andate usate transferwise qui dovete fare un account però riceverò dei soldi come affiliation transferwise lo conosco da molto tempo lo sto iniziando ad usare adesso non l'ho mai usato una volta era il go to quando si parlava di fare cambi di currency però dall'arrivo di Revolut è passato in secondo piano ora che Revolut sta diventando un po' più malvagio e sta mettendo dei fì qua dei fì di là il suo account il suo IBAN lituano bla 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 spesso non è accettato transferwise è molto più universalmente accettato si chiama wise da poco ai miei tempi si chiamava transferwise molti in google lo utilizzavano il mio collega nella startup lo utilizza mi sono fatto convincere ho fatto vabbè dai ok lo uso anch'io al momento mi trovo abbastanza bene ho dovuto veramente fare pochissime cose se non aprire account in multiple currency è costato aprire in multiple currency 26 franchi è costato vabbè però ho account in dollari in euro e in franchi svizzeri e quindi avendo ricevuto pagamento in dollari volessi trasferirlo alla mia al conto della GmbA in franchi userei il servizio di conversione loro che ha solo lo 0.5% di currency conversion fee dicevo ho scelto di usare transferwise per gestire pagamenti da interactive brokers come affiliation e non solo in realtà sto dando l'Iban di transferwise anche quando devo ricevere pagamenti in euro da parte della GmbA quindi quando la mia azienda deve fatturare in euro do l'Iban di transferwise in quanto sul bank account ufficiale dell'azienda con UBS qua in Svizzera ho aperto solo un conto in franchi svizzeri e non lascerò mai 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 ad UBS convertire dollari o euro in franchi svizzeri o mi ricaricano tipo un 3-4% manco morto alternative che avrei potuto utilizzare piuttosto che aprire un altro account come quello di transferwise sarebbe stato o accettare le fee e quindi dare a interactive brokers il mio IBAN in franchi e aspettare che che UBS mi sfalci in 4% oppure aprire un account in dollari con UBS ma era molto costosino e complicato e quindi al momento ho preferito di no oppure usare Paypal visto che già ho un account Paypal per la mia GmbA però ho preferito di no perché poi da Paypal i dollari sono kind of bloccati non li posso convertire senza pagare miliardi o estrarre senza pagare miliardi posso solo spenderli al momento la GmbA potrebbe non lo so preferisco non averceli alternativamente avrei potuto utilizzare direttamente il mio account post finance in dollari visto che ho un account in dollari post finance io personalmente oppure il mio Paypal oppure il mio Revolut altre forme di dollari il problema è che al momento l'accordo di affiliation con Interactive Brokers l'ho preso ho firmato i documenti come GmbA come società e non come entità privata individuale anche perché in Svizzera è complicato poi però col seno del poi visto che come vi spiegherò fra poco ho dovuto comunque aprire anche una ditta individuale a quel punto avrei potuto in realtà appioppare questi soldi a Giorgio ditta individuale cosa che forse farò forse farò però devo dire a Interactive Brokers se guarda da questo mese non sono più Retire in Progress ma sono G.A.U la mia ditta individuale ok è un po' complicato sto impazzendo di burocrazia benvenuti nella mia testa andiamo avanti andiamo avanti quindi parliamo della parte pensionistica della parte previdenziale ok pension pillars pension pillars partiamo dal pillar 3 il pillar 3 un piccolo breve riassuntino che faccio un po' troppe volte ma che penso abbia senso perché qui parliamo di sistema previdenziale svizzero sistema previdenziale svizzero è su tre pilastri cioè il primo pilastro il secondo e il terzo pilastro quando tu solo per il fatto di esistere in Svizzera di essere qui tu devi pagare dei contributi di primo pilastro il primo pilastro è la pensione sociale è quello in cui tutti contribuiscono in base a quanto guadagnano se guadagnano se non guadagnano contribuiscono in base al patrimonio se hanno un patrimonio se no qualcuno contribuisce per loro o non contribuiscono il primo pilastro lo pagano tutti chiunque è residente in Svizzera ci sono delle eccezioni ma il secondo lo paga chi lavora quindi se tu lavori paghi il primo e il secondo pilastro ok? il primo pilastro se sei residente in Svizzera il secondo se lavori in Svizzera ovviamente ovviamente per i frontalieri non lo so però se tu sei residente in Svizzera e lavori in Svizzera paghi primo e secondo pilastro il terzo pilastro è volontario il terzo pilastro è un po' volontario cioè quello lo paghi solo se vuoi lo paghi solo tu non c'è nessun match di nessuna azienda e è tax deductible fino a 6800 franchi l'anno il terzo pilastro è quello un po' più essendo completamente volontario è quello più elastico che c'è quello con miglior soluzioni quindi in cui puoi investire due soldi liberamente quasi liberamente hai dei costi più bassi delle altre soluzioni e trovi anche un po' di scam gente che vuol venderti assicurazioni vita e bla 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 i nostri terzi pilastro perché anche mia moglie ha un terzo pilastro sono tutti quanti cofin pension fin pension è la fondazione di terzo pilastro che usiamo da un paio d'anni sia io che mia moglie e anche fin pension è affiliata col canale di retare in progress quindi trovate in descrizione il codice di affiliazione e ne ho parlato più volte è una fintech che consente di investire fino anche al 99% del patrimonio investito nel terzo pilastro su strumenti customizzabili con fondi dal ter bassissimo prendendosi a sua volta soltanto uno 0.42% di ter non è non è bassissimo 0.42% di servizio però on top ha etf anche a costo zero etf di fondi previdenziali etf a costo zero con cui hanno altri accordi perché questo 42% di service fee servirà anche a pagare i fondi di credit suisse che sta utilizzando essenzialmente fondi passivi 0.42% non è pochissimo di finpension sul sito troverete 0.39% però è più IVA al 7,7% di 0.39% arriva a 0.42% non è bassissimo però è una soluzione di terzo pilastro le alternative non sono così buone ce n'è un'altra VIAC che uso come secondo pilastro ora ci arriviamo però c'è da considerare che sono soldi pre-tax quindi tu fino a 6.800 l'anno ce li puoi versare se lavori o anche di più o anche di meno le formule del terzo pilastro sono che se hai un lavoro da dipendente per il quale versi già il secondo pilastro puoi versare al massimo 6.800 l'anno cioè al massimo 6.800 oppure cioè il massimo tra 6.800 e qualcosa e il 20% del tuo stipendio del tuo stipendio lordo 20% cioè se prendi almeno 30.000 se lavori in Svizzera il tuo massimale è 6.800 se invece lavori in proprio lavori come self-employed quindi se hai una ditta individuale essenzialmente puoi arrivare a versare fino a 30.000 32.000 cioè un massimo alto di terzo pilastro perché tu non versi il secondo pilastro se sei uno che lavora solo in proprio e non è stipendiato da nessuno non paghi secondo pilastro ma hai un tetto più alto per il terzo pilastro non ho ancora versato alcuna contribuzione di terzo pilastro per il 2022 in quest'anno qui mia moglie non può versare perché non ha non ha un lavoro fino all'anno scorso ha avuto dei lavori per cui poteva quest'anno al momento non ha non ha non ha non ha non ha lavoro quindi non credo che lo dovrà quest'anno data la situazione familiare quindi non posso versare alcuna alcun contributo non posso far versare mia moglie alcun contributo posso versare io contributi pensionistici fino a 6800 lo farò non lo farò ci devo ancora pensare dipende da quanto dipende da come sarà il cash flow quest'anno se se quest'anno non guadagnerò relativamente poco non so se ha senso versare nel terzo pilastro se guadagnerò diciamo dai 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 120 devo ancora dire fuori delle forme però ho tempo fino a dicembre per cui ci penserò con calma più in là come sta andando il terzo pilastro alti e bassi in realtà da inizio di quest'anno ha un po' perso perché ha investito un po' più nel mondo con una forte esposizione svizzera di default a meno che io non decido di cambiare a manina ma al momento da inizio anno è in leggera perdita e vabbè se guardiamo Vanguard VT che può essere un riferimento comunque il mondo è in perdita meno 5-8% qui dentro parliamo di dove stiamo da 54-4% a 48-8% sono 1.6% su 50% vuol dire un 3-2% sta sotto di un 3-2% vabbè possiamo non moriamo io ho due portfolio per me di terzo pilastro e uno di mia moglie perché io ho due portfolio se ne possono avere fino a 5 può aver senso in quanto ogni portfolio è ritirabile o trasferibile nella sua interezza e non parzialmente per cui nel corso di una vita contributiva uno potrebbe arrivare ad accumulare diverse centinaia di migliaia di franchi in terzo pilastro e ha senso splittarli in più portfolio fino a un massimo di 5 così eventualmente da avere l'opzione quando si arriverà in età pensionabile o se si lascia la Svizzera o se si compra casa o se ci si mette in prova sono varie modalità per cui può ritirare il terzo pilastro e a quel punto può essere interessante ritirarli in anni fiscali diversi per pagare meno tasse quindi avere più portfolio ci aiuta perché possiamo primo ritirarli in momenti diversi e pagare meno tasse o metterli come pledge per l'acquisto di una casa ma separatamente non tutti assieme oppure possiamo spostare un terzo pilastro da Fimpension a un altro provider lasciando gli altri in Fimpension quindi hai più modularità quindi io credo che aprirò anche un terzo quarto e quinto portfolio prima o poi in Google la formula era come arrivi a 20.000 su un portfolio voglio aprire un altro e poi comincia a roteare a mettere i soldi in ciascuna benissimo terzo pilastro non ho ancora contribuito per il 2022 deciderò con calma non c'è fretta posso anche contribuire a dicembre non c'è fretta deciderò se varrà la pena fiscalmente secondi pilastri secondi pilastri sono questi qua questa parte qua quello che vedete è VBA e la prima parte di bond in teoria forse sarebbe senso separare le prime tre righe e metterle come secondo pilastro e basta il VBA sta per vested benefits account sono account vested benefits sono dei account bloccati essenzialmente in italiano sono conti di libero passaggio si dice nella svizzera italiana e sono essenzialmente account dove metti dei soldi parcheggiati che tiri fuori da un secondo pilastro lavorativo quando non è più un lavoro cioè se tu lavori in Svizzera contribuisci al secondo pilastro in percentuale a quanto tu guadagni quindi metti dei soldi su un conto a tuo nome che di solito non viene investito secondo il piano pensionistico dell'azienda con cui stai non hai molto da dire quindi non puoi decidere di investirli come vuoi sono messi in un calderone che crescono in genere vengono parzialmente investiti ma devono anche essere investiti in strumenti sicuri perché se il mercato crolla comunque devono garantire un rendimento e quindi in genere sono messi in strumenti che danno poco rendimento ammetto che AXA mi ha stupito l'anno scorso e mi ha dato un rendimento del 5% per la parte obbligatoria e 7,59% per la extra grandissimo applauso ma io a gennaio ho spostato i soldi fuori a febbraio in realtà ho spostato fuori i soldi da AXA dal secondo pilastro in quanto non avevo più un lavoro mi ero licenziato dall'azienda precedente il 31 dicembre e ho iniziato a lavorare per la RIP GmbA nel 2022 quindi in teoria ho detto al pension provider al second pillar pension provider della mia azienda precedente e guarda adesso quei 375.000 franchi che hai qua tra parte obbligatoria e parte extra obbligatoria questi qua adesso mi li sposti gentilmente in questi due strumenti si può fare uno split in due quando li tiri fuori dalla tua azienda dall'azienda per cui lavori cioè tu lavori per Pinco Pallino poi ti licenzi e vai a lavorare per Pippo Franco altra azienda puoi spostare il fondo pensione dell'azienda all'altra in teoria se passi un periodo senza lavorare devi metterli fuori di parcheggiarli in un conto di libero passaggio e poi dopo tendenzialmente dovresti riportarli nel secondo pilastro della nuova azienda è un dovresti è un po' grigia la legislazione a riguardo c'è chi dice cioè comunque in tutti quanti i form che ti mandano i fondi pensione ti chiedono sempre ma hai per caso dei soldi in qualche altro Vest Benefit Account indicalo solo qui secondo loro non devi portarceli non è forzata da nessuna parte è un discorso un po' complicato perché da qualche parte sembra sia devo parlarne un po' con un tax advisor serio ma sembra essere anche per i consulenti AXA non obbligatorio eppure loro sono incentivati a dirti no no tutti i soldi li riporti qua quindi io cosa ho fatto in attesa di capire bene cosa devo fare i soldi del mio vecchio secondo pilastro che da Google mi sono portato nell'istituto accademico di ricerca e poi mi sono trovato disoccupato li ho spostati in questi account in questi Vest Benefit Account quindi ora la parte secondo pilastro come vedete riparte da zero riparte da 400 euro al mese ho detto franchi al mese tutti quanti nella parte mandatori con il nuovo contratto di secondo pilastro di Giorgio dipendente della RIP che MBA è un po' complicato quindi sto ripartendo con un secondo pilastro ufficiale da zero adesso ho 1300 franchi mentre la ciccia il grosso del secondo pilastro è stato spostato in Vest Benefit Account al momento in cui non hai più un lavoro e devi spostare i soldi da un secondo pilastro a un VBA quello che in genere fai quello che si può fare è splittarli in due non ti possono essere pagati perché a meno che non stai lasciando la Svizzera o hai raggiunto l'età pensionabile o stai comprando una immobile o stai aprendo un'azienda ding c'è questa opzione se stai aprendo un'azienda puoi prelevare il secondo pilastro e anche lì posso farlo ho ancora tempo di farlo devo capire se ha senso fiscalmente credo di no perché poi dopo i contributi successivi non sono più tax deductible devo capire se conviene casharli adesso anche in parte devo capirlo ho tante cose ancora da risolvere quindi questi 375 questi due qua 375.000 franchi queste sono tasse che mi aspetto di pagare quando li prendo li ho splittati in due li ho splittati a febbraio in 150.000 su value pension e 226.000 su viac ok 150.000 su value pension eccolo qua questa è la entry value pension e questa è la entry viac la entry value pension la sto investendo value pension è la stessa azienda di finpension è la stessa azienda offre anche una soluzione di vested benefit account ho spostato 150.000 e li sto investendo aggressivamente 80% stocks e 20% bond perché 80 e non 100 non lo so in realtà qual è il problema in realtà il problema è che è che tutti questi soldi qua questi 375.000 erano nel secondo pilastro investiti prudentemente davano anche dei ritorni erano garantiti non andar giù finché AXA stava sopra al 100% di soglia di sicurezza e stava a 115 120% per cui era tranquilla AXA però per me nel mio accounting questi erano bond li consideravo bond ora spostare 375.000 e metterli in un mondo e considerarli stock è significa essere leggermente sovraesposto come sapete quando parleremo di asset allocation cioè non è che impazzisco dalla voglia di stare ancora più sovraesposto a stocks qui ho detto facciamo così una parte devo un po' proteggerla e investirla in un modo sicuro almeno a garanzia capitale finché non finché non capisco un po' meglio cosa devo fare nella vita infatti il grosso 225.000 li ho investiti in VIAC VIAC Global Plus VIAC Global Plus che è al 5% vediamo di VIAC Global Plus è investito al 5% in stocks e il 95% al momento credo che in liquidità in franchi svizzeri ok potevo anche investire 100% in liquidità e tenerlo tutto quanto cash ho detto 5% di esposizione ce lo buttiamo dentro così la cosa bella è che ha 0% di cost quindi se andiamo su VIAC VIAC e vediamo Vested Benefit Fees dove sta? ah Strategies eccolo qui come vedete fino a fino al 5% investito a 0% di fee quindi non pago alcun fee con VIAC se aumento la percentuale di investimento a disposizione azionaria Global Switzerland Sustainable se aumento 20, 40, 60, 80 100 azionario pago più fee quindi se devo tenere dei soldi in cash ho dovuto tenerli in VIAC di secondo pilastro perché è uno free of charge mentre invece Value Pension Value Pension Inglese Strategies Ok dove sono andate? Le strategie dove sta? English Overview Il fee è unico è 0,49 più IVA 0,53 circa indipendentemente dall'esposizione dall'esposizione in azionaria per cui Value Pension slash Fin Pension sono vantaggiosi se investite almeno l'80% in azioni se dovete tenere del cash è stupido pagare 0,5% di fee quindi ho preferito la parte non investita del mio secondo pilastro vested benefit ho preferito metterla in VIAC che mi consente di avere free quindi di non pagare alcuna commissione purtroppo VIAC non ha un affiliation se no l'avrei raccomandato volentieri VIAC e Fin Pension parliamo dei migliori strumenti che trovate in Svizzera Ok Benissimo quindi come stanno andando questi investimenti direi per assurdo bene che da febbraio quando li ho spostati era febbraio 22 poi sono stati investiti attorno a inizio marzo perché ci mettono un po' ad entrare nella macchina e da inizio marzo in teoria è andato anche sul mercato tant'è che tant'è che il mio value pension 80% da 150 a 157 good job e anche il mio VIAC investito pochissimo ha guadagnato qualche 600 franchi non male non male ovvio se il mercato crolla del 50% questo viene sfalcidiato del 40% e questo del 2,5% questo del 50% perché è 100% in stocks quindi cosa ho la mia parte previdenziale escludendo il primo pilastro come sapete c'è il cheat sotto è un po' esposta in stocks dal 99% all'80 al 5 allo boh non so bene questa parte di secondo pilastro come investita quindi questa è la situazione previdenziale ok parliamo di cose brutte parliamo di bond i bond tutti i miei bond sono in perdita continua i bond bonds suck c'è poco da dire in questo periodo storico i bond fanno male sono inutili i tassi sono bassissimi e sono in crescita che è la cosa peggiore che può esserci è la cosa peggiore che può esserci i tassi bassi quindi di per sé i bond rendono pochissimo in crescita per cui più è di bond a lunga durata più il tuo bond perde valore questo ne parleremo in una futura live di investing from zero to zero parte 4 quindi fra 6 mesi non vi fare la bocca buona in ogni caso credo che più andiamo avanti se i tassi salgono diventano un po' più appetibili i bond tant'è che a questo punto può quasi cominciare ad aver senso però è che anche l'inflazione sale per cui avere un ritorno un po' più alto ma con l'inflazione ancora più alta è un po' complicato avere soldi in questo periodo però tutti i miei bond quindi quelli americani a short term quelli emerging markets governativi ad alto yield quelli aggregati alto yield e quelli aggregati mondiali stanno tutti quanti succando dignitosamente credo di aver perso circa 10.000 dollari in bond in questi tre mesi crypto ci sono sicuri una scaletta crypto pam 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 gente che apre chiude abbiamo già risolto sono ancora in polka dot ho 804 dot ricomprati a 16 euro dot adesso non so se stanno in attivo o in positivo non ricordo comunque la storia con i dot è che li ho comprati l'anno scorso venduti in profitto poi è andato ancora più su mi sono mangiato le mani poi è crollato ho fatto yay e poi li ho comprati è crollato ancora ho fatto mangiare le mani timing non va bene e ho 800 dot il piano sui dot è tenerli sì in realtà siccome penso di come startup di cominciare a sviluppare per per prendere uno slot parachain in dot ho un qualche interesse multiplo nell'andar bene del progetto per cui voglio voglio starci dentro ancora non ho una strategia di uscita non ho una strategia di investimenti ulteriori non lo so li lascio li lascio star lì e vediamo che succede non c'è una grande strategia dietro probabilmente se dovessero crescere li venderei ma non lo so non lo so ancora il dot di per sé questo ultimo mese è andato su bene 20% stiamo ancora a meno 20% da inizio anno c'è un po' di c'è un po' di giostra comunque parliamo di una top 10 cryptocurrency se togliamo le stablecoin private equity qui entriamo in una parte un po' complicata che vorrei riuscire un po' a semplificare ma vediamo un po' che succede private equity io ho due soliti investimenti che ho già parlato più volte ho 1500 dollari investiti in Rome Research e quando ne ero un po' più entusiasta di quanto ne sono adesso perché adesso non ho neanche tempo di usarlo come vorrei e ho 5000 franchi investiti inizialmente nella mia startup quindi ho depositato 5000 franchi per il 5% delle quote abbiamo versato 100.000 franchi poi abbiamo altri investimenti abbiamo altri finanziamenti sopra diciamo però inizialmente per prendere il mio 5% di quote ho depositato 5000 franchi ora do a quelle quote al mio 5% il valore di 5000 come se valutassi la nostra startup 100k probabilmente non vale 100k o vale 0 o vale molto di più però al momento per non saperne leggerne e scrivere attribuisco il valore d'acquisto stessa cosa faccio con Rome Research ho depositato 2500 dollari quando hanno fatto una campagna di crowdfunding la post money la post money valuation era 200 milioni non trovo notizie di aggiornamenti o di grande variazione di questa post money valuation quindi ipotizzo che le mie share valgano ancora 1500 dollari vedremo che succederà con queste piccole private investment su questo qui ovviamente sulla mia startup ho un qualche interesse a farla crescere sono un ruolo molto attivo non ne parliamo oggi e quindi magari queste potrebbero domani aumentare di valore non lo sappiamo ancora e poi ho messo un po' troppe entry relative alla mia RIP GmbA alla mia SRL all'azienda che uso per i lavori di consulenze per i lavori di di servizi vari per i lavori di consulting aziendali è l'entità che interagisce con la startup è l'entità che fattura la startup in teoria pensavo di rinchiudere attorno al cappello della SRL tutte le attività che faccio anche non so youtube anche twitch anche affiliazioni di qua affiliazioni di là servizi in televisione qualunque cosa porti dei soldi pensavo di attribuirla alla mia SRL la chiamerò GmbA perché è un po' più figo SRL è molto italiano è molto italiano GmbA è svizzera è quello tedesco è per società e responsabilità limitate ora quanto in che modo la GmbA il patrimonio della GmbA dovrebbe essere riportato sul mio patrimonio personale questa è una domanda che mi faccio al momento la GmbA ha dei conti corrente ha dei crediti ha dei debiti ha un sacco di roba sto cercando di stimare un po' qui in questo accounting accounting del discount in questo accounting del discount su spreadsheet fatto male ovviamente c'è un accounting molto più preciso e c'è con più dettagli entrate e uscite e c'è anche una una commercialia una Troy Hunt si chiama qui in Svizzera una fiduciaria penso si traduca in italiano che mi dovrebbe stare aiutando a gestire queste cose quindi probabilmente diventerò mi imparerò a fare un po' a usare i tool di budgeting e di accounting professionali che stanno qui dovrò un po' imparare a sporcarmi le mano o con Bexio o probabilmente con Banana 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 Accounting Banana Professional Accounting a soli 69 franchi l'anno figo 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 molto meglio di Bexio e costa molto di più business software for small businesses administration small medium enterprises administration questo costa 30 franchi al mese questo costa 69 l'anno e me l'ha suggerito la mia commercialista fiduciaria dicendo ah usiamo questo strumento qua poi ti insegno un po' di cose poi diventi anche autonoma puoi mettere dentro le fatture pagare i stipendi fare ricevere pagamenti fare refund tutto quello che si fa un accounting tradizionale quindi userò Banana penso no Fabio da oggi tu sei Banana adesso ne roba ne roba però al momento finché non uso uno strumento professionale quello che faccio è ho un dettaglio di entrate uscite mese per mese sarebbe questo dovrebbe averlo ripulito da dati sensibili e quindi ho le varie entrate uscite entrate per coaching entrate per consulting entrate per coaching uscite spese telefoniche dominio registro delle imprese e così via febbraio entrate 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 uscite 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 stipendio pagato a Giorgio ale marzo entrate 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 entratone uscite per stipendio di febbraio e stipendio di marzo c'è un sacco di entrate uscite che sto gestendo un po' così tra l'altro fan fact ho anche conteggiato ho conteggiato quanti fee ho pagato a Stripe e Paypal e mi sono sentito male da qualche parte devo averlo fatto un conto più preciso se non sbaglio dove sta andiamo un po' qualcosa come cifre allucinanti 1600 franchi di fee a Paypal e ah ah oh ci sono tutti i dettagli ogni volta c'è un'entrata se è incamerata tramite Paypal o Stripe c'è un'uscita associata fa male fa male comunque quindi c'è l'account ufficiale fatto con banana c'è un accounting a mano di entrate di uscite fatto io con spreadsheet che forse prima o poi lo deprecherò ovviamente e poi c'è un accounting un diciamo un net worth un balance sheet no quell'altro lì è il cash flow questo qui è il balance sheet che faccio un po' così un po' selvaggiamente finché non imparo a farlo professionalmente in cui metto quanto quanti soldi stanno nel conto corrente al 31 marzo il conto corrente ufficiale della GmbA aveva 25.000 con dei crediti quindi lavori già eseguiti non ancora incassati ma in via di incassazione con delle ipotetici ipotetici debiti di IVA VAT da Merwerker Steuer in tedesco mi aspetto di dover pagare questa cifra di IVA mi aspetto di dover pagare questa cifra qui di secondo pilastro cioè Giorgio deve ricevere X di secondo pilastro ma la RIP GmbA deve pagare i contributi di secondo pilastro sono ormai datore di lavoro e dipendente sono datore di lavoro e dipendente Giorgio expected pagamenti di primo pilastro i contributi di primo pilastro per Giorgio e però ha anche ricevuto riceverà i contributi gli assegni familiari per Giorgio che forwarderà a Giorgio la mia GmbA e poi ha un account Paypal e ha l'account Wise come ho detto su cui ho ricevuto al momento i referral all'interactive brokers che fatica che fatica ho molte domande riguardo questo accounting per la GmbA cioè primo intanto come ha senso fare questa roba qui beh ha senso che io mi conteggi nel mio patrimonio cioè in teoria sono 100% proprietario di un'azienda che potrei chiudere liquidare e prendere i soldi domani pagandoci le tasse ovviamente le cose come ho detto le cose questi debiti che so di avere non c'è nessun accounting per le corporate tax attese in teoria a fine anno a fine anno fiscale entrate meno uscite la GmbA fa dei profitti su quei profitti ci paga il 20% di tasse le corporate tax a Zurigo l'ho incorporato a Zurigo Pirla tutti le incorporano a Zug Zug eccolo qua ZAG 11,85% di corporate tax Zurigo il 20% uno dei cantoni messi peggio come corporate tax la media svizzera è 14,85% di corporate tax Zurigo il 20% Zug è 11,85% quello più basso in fase di apertura mi hanno fatto un po' di pressione dalla i consulenti che ho sentito eh ma se tu sei residente a Zurigo e non fai attività e non c'è value ad value creation nel cantone ipotetico di incorporamento non puoi incorporarla lì eh e io ho detto ok ho amici che hanno società vivono a Zurigo lavorano a Zurigo una società Zug e hanno una mail forwarding quindi hanno qualcuno che gli affitta un desk e gli gira le mail la posta cartacea e dicono che funziona si trovano bene io per essere pulito e corretto non l'ho fatto però poi che succede visto che la GMBA il suo cliente principale è la mia startup è la NFT chain che ha sede a Zurigo in teoria io fatturo su Zurigo quindi in teoria avrebbe senso che la mia startup che la mia GMBA scusa faccio confusione ragazzi che la mia GMBA fosse anch'essa residente a Zurigo e pagasse metà corporate tax e quindi adesso cambiare l'omicidio di una GMBA è complicato è un atto notarile però potrei avrei tutto il diritto di avere un'azienda domiciliata a Zurigo visto che è lì che è domiciliato il principale cliente della mia GMBA detto questo quindi corporate tax 20% Zurigo contro 12% di Zurigo Zug però su cosa si paga questo 20% o 12% si paga sul si paga sul sulle profitti dell'azienda il mio intento originale era aver zero profitti per l'azienda quindi in teoria credo che cambi cambi poco ogni volta che ne parlo con qualcuno con qualche commercialista qualche fiduciario fa ok come se in realtà non potessi cioè in teoria vedrò lo vedrò durante l'anno idealmente la vorrei lasciare l'azienda a fine anno senza profitti ogni soldo che entra me lo do come stipendio o come bonus o come dividendo ma dividendo quindi sono profitti già passati però vorrei minimizzare i profitti per l'azienda quindi in teoria vorrei adesso fatturo un miliardo magari ci penso bene però al momento il mio piano è tirar fuori i più soldi possibili quindi lasciare l'azienda con pochi profitti anche perché i profitti ci paghi il 20% e poi per tirare fuori i soldi da lì ci paghi ancora tasse quindi è una doppia tassazione la GAMBA sono un po' inefficienti fiscalmente però ti proteggono dalle liability e bla 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 e poi era difficile operare diversamente quindi in teoria al momento credo che per un po' riporto nel mio patrimonio tale qualità è il patrimonio della GAMBA quindi se più fattura più cresce il patrimonio fa parte del mio patrimonio se dovessi chiuderla ho detto ci pagherai delle tasse sopra che non sto stimando al momento però via va bene così quindi questo qui è è la gestione della GAMBA ok ok le righe le abbiamo un po' spiegate benissimo quanto ho del cash c'è poco da dire sono vari conti corrente vari conti su cui ho del cash tra il conto banco posta in Italia post finance in euro euro revolut paypal personale on paypal personale e paypal aziendale stripe personale kraken account cash varie banconote cash bill che come vedete non tocco stanno facendo la muffa le banconote in tasca fanno la muffa in svizzera in realtà 5 ci deve essere una moneta da 5 franchi che però non ricordo di avere quindi forse quella non ce l'ho più forse dovrei far diventare 440 quella non ce l'ho più quindi non uso banconote da mesi bene e il cash interactive brokers che è un po' un po' loccato perché vendo delle put poi ne parlerò con calma prossimamente aspetto tasse il saldo 2020 è stato chiuso a inizio anno e quindi confermato che dovevo avere 15.000 franchi indietro gli AI però non mi hanno mai dati hanno rollati all'anno 2021 quindi a gennaio hanno detto ok perfetto 15k ma li mettiamo visto che nel 2021 hai pagato pochi acconti te li rolliamo all'anno 21 quindi l'anno 21 che mi aspettavo comunque di star un bel po' sotto devo pagare ancora 26.000 di tasse ho pagato pochissimi acconti l'anno scorso qui in Svizzera è figo le tasse le paghi quando vuoi se non le paghi poi arriva il saldo e paghi tutto assieme dopo quindi se vuoi le paghi tutto quanto fra quando arriva il saldo che arriva uno o due anni dopo e via quindi l'anno scorso per il 2021 ho fatto solo un versamento da 13-14.000 e mi aspetto un 40.000 di tasse quindi mancavano 26.000 15.000 mi hanno rollati dalle tasse del 2020 che dovrei avere indietro e quindi il mio ancora expected tax debito del 2021 è sceso 10.000 a marzo è arrivato una bill da 7.200 di provvisorie tasse federali del 2021 non ho ancora fatto dichiarazione redditi per cui in teoria le tasse del 2021 le scopriremo quando farò dichiarazione redditi però io ancora stimo circa 40.000 quindi avendo rollato questi 15.000 avendo pagato questi 7.200 mi aspetto ancora un carico fiscale per il 2021 3.600 poi quando farò quando farò la dichiarazione redditi vedrò quanto diventerà questo 3.600 magari diventa di più di meno avendo i soldi io in genere cerco di essere pessimista nella stima delle tasse così che poi quando arriva quando faccio la dichiarazione wow mi trovo dei soldi degli expected soldi indietro la dichiarazione poi di per sé non è verità perché loro potrebbero ancora contestare e cambiarti la dichiarazione per cui in genere quando faccio dichiarazione redditi cambio le mie aspettative quindi se adesso le mie aspettative per il 2021 è che devo pagare 3.600 faccio dichiarazione redditi e scopro che devo riavere indietro 4.000 faccio wow perfetto ho più 7.000 di bump nel net worth e mi segno più 4.000 da meno 3.600 più 4.000 poi se l'ufficio fiscale mi dice ehi ciccio no in realtà questi 2.000 sono sbagliati ne dobbiamo solo da 2.000 in quel momento mi segno che da più 4.000 entro più 2.000 quindi le tasse di ogni anno fiscale evolvono da stimate dichiarate finalizzate 2020 abbiamo avuto il final finalizzate pam 2021 sono solo stimate in più ho un provvisorio federali ok non solo c'è anche withholding tax credit questi sono soldi che mi aspetto di ricevere quindi in teoria il carico fiscale per il 2021 da questo c'è da sottrarre questo aspetto che sono in dollari di tasse trattenute dall'America sui dividendi quindi le withholding tax sui dividendi americani perché io ho etf americani che distribuiscono se andiamo a vedere qui su interactive brokers in withholding tax troviamo che ci sono tutte quante le withhold tax sui dividendi che ho ricevuto durante questo mese in realtà ho messo tutto quanto il quarter e vedete ad esempio se io ricevo nel 28 marzo dividendi da 792 dollari per VTV troveremo una entry il 22 marzo eccolo qui di VTV di 118,83 che è il 15% l'America si trattiene il 15% dei dividendi degli etf americani che distribuiscono se lo trattiene ma è poi reclamabile con questo form DA1 in cui posso riavere i soldi indietro già fatto un paio di anni funziona è successo qualcosa a inizio anno 2022 in quanto molti delle withholding tax di BSV che sono dei bond americani mi sono stati restituiti a loro volta con una withholding della withholding quindi vedo che tutto BSV nel 2021 mi ha restituito dei soldi Interactive Brokers direttamente non so bene perché e poi ci ha fatto una trattenuta sopra siccome non so bene come considerarla questa cosa qui la considero più o meno come se avessi già ricevuto 500 dollari qui ho indicato come commento quindi più o meno dico 500 dollari di withholding tax mi sembra che siano rientrati c'è una withholding della withholding e forse riuscirò a reclamare ci penserà il mio tax advisor in fase di creazione di redditi però mi aspetto 500 dollari in meno così a spanne e quindi ho aggiornato da 3.300 a 2.800 dollari di expected withholding tax da recuperare per l'anno 2021 anno 2022 abbiamo le pam 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 5 entry di expected taxes una è income tax ovviamente però per l'income che ricevo c'è wealth tax è un po' più complicata da spiegare tassa patrimoniale sto stimando in base al patrimonio sto stimando quanta percentuale e via altra cosa da considerare sono i withholding tax credit già aggiornato del 2022 quindi come ho detto le withholding tax americane sulle distribuzioni di dividendi di etf americani o aziende americane nel 2022 al momento stiamo circa 465 dollari e poi c'è questa entry particolare che adesso aprirà un mondo nuovo che è expected pillar 1 sole proprietorship 2022 perché che succede succede che nel 2022 retroattivamente dal 2021 devo anche aprire una ditta individuale una sole proprietorship perché? perché nel 2021 Giorgio ha fatto un po' troppa roba un po' troppe attività coaching 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 consulting consulting partecipazione televisive retribuite pagamenti da youtube pagamenti da altre piattaforme ho fatto un po' troppe cose affiliate marketing bla 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 circa qui ho visto i paypal feed dell'anno 2021 sono circa 32 mila franchi di guadagno straordinario rispetto allo stipendio quindi tutta la mia attività come Mr. Rip nel 2021 che potete vedere a questo questo mondo qui dov'è tutto questo mondo qui i nodi arrivano al pettine nel senso che tutte le consulenze tutte le attività che ho fatto nel 2021 vanno tassate giustamente e quindi devo aprire retroattivamente una ditta individuale a cui verranno attribuite queste attività e che pagherò tassi per l'anno 2021 detto questo ok quelle tassi non le sto non sto facendo sì sto facendo accounting perché già le consideravo qua expected income tax già in queste tassi consideravo la parte di la parte di di entrepreneurship quindi già consideravo più o meno già stando nella stima di tasse di totale tasse da pagare per l'anno 2021 già c'erano le tasse su questa attività che non ho pagato alcuna tassa fino adesso siccome non posso solo pagare delle tasse dichiarare delle entrate e pagare delle tasse ma devo avere una struttura qua in Svizzera devo avere una partita IVA non esiste partita IVA devo aprire una sole proprietorship devo aprire un'azienda e su questo income qui meno le spese che dichiaro di aver sostenuto devo pagare sia tasse che anche contributi di primo pilastro quelli non sono conteggiati da nessuna parte e forse dovrei in qualche modo conteggiarli e non solo mi aspetto anche di pagare contributi di primo pilastro sulle attività da sole proprietorship da ditta individuale nel 2022 perché questa ditta individuale me la porto avanti non la faccio chiudere e quindi un po' delle attività che io faccio le attribuisco alla GMBA le fa la GMBA l'azienda e un po' le fa la ditta individuale che alla fine è la ditta individuale in Svizzera è un concetto molto mescolato con i tuoi soldi cioè devi fare un po' di accounting semplificato però è un po' come una partita IVA è un po' come una partita IVA italiana quindi i soldi li posso ricevere sui miei conti ovviamente devo poi dichiarare entrate e uscite e devo pagarci contributi di primo pilastro e devo pagarci tasse sopra la mia scelta al momento devo ancora bene decidere come comportarmi è che le attività da influencer quindi le affiliation e le revenue da royalty da YouTube e altre piattaforme mi piace sta cosa qui le attribuisco alla ditta individuale mentre le attività da consulting e coaching le attribuisco alla GmbA alla società responsabilità limitata il perché non lo so quello che è più a rischio liability lo vorrei attribuire alla GmbA quello che è meno a rischio liability lo attribuisco a Giorgio ok perfetto poi vediamo più in dettaglio sotto nella parte cash flow dettagli sulla sole proprietorship però è così nasce retroattivamente la ditta individuale quindi in Svizzera la ditta individuale è molto semplificata è quasi come una partita IVA italiana e deve avere il tuo cognome il cognome della persona che fa la ditta deve essere nel nome dell'azienda quasi tutti fanno cognome consult la Rossi Consulting la Bianchi Consulting a me non piaceva non piaceva questa cosa qua ho preferito dargli una cosa un po' più carina cioè pensavo di avevo diverse sapete il mio cognome è segreto non lo dico a nessuno nessuno sa il mio cognome sono Giorgio Mr. Rip e e quindi no volevo come nome della mia ditta non mi piaceva cognome consulting ma una cosa più carina ho pensato tipo a un grazie a cognome no? tipo grazie a Rossi bene nelle fatture no? questa fattura qui grazie a Rossi il tuo business è migliorato? grazie a Rossi grazie a Bianchi però col mio cognome è divertente mi piace mi fa mi sembra un po' più un po' più rispettoso ho anche pensato di metterci la faccia alla faccia di cognome alla faccia di Rossi il tuo business ha fatto il salto da gigante alla faccia di Bianchi mi piaceva attaccatevi a Rossi cioè non sai come fare? eh aggrappati a Giorgio mio cognome benissimo altre eh allora vediamo un po' vediamo un po' la parte others other others extras e other others non vorrei qualche formula vado andasse a leggere poi non è un dettaglio c'è il solito debito di carta di credito che ripeto sempre non non pago sempre la carta di credito ogni mese e che il bill arriva a inizio mese successivo per cui a inizio già è successo forse oggi che è 4 che sto registrando è già arrivato il bill del mese di marzo per cui ho già pagato il debito di carta di credito e poi riparto a fare pagamenti con carta di credito che arriverò a fine mese con un debito e a inizio mese lo saldo tutto quanto quindi non non lascio mai che la carta vada in overdraft ovviamente abbiamo questi vari crediti vari crediti di varie cicche vari crediti Finpension Red Purple Amazon sono crediti in generale sono cose del tipo mi aspetto di ricevere questi soldi da Finpension questo è patrimonio non è cash flow quindi questo qui non è che questo mese 2003 ma questo mese è la differenza 225 il mese scorso cioè Finpension paga solo a gennaio se hai ricevuto più di 1000 franchi di credito a gennaio in realtà inizio gennaio non stavo a 1000 franchi quindi ho perso questo treno mi aspetto a gennaio 2023 di ricevere il ammontare di referral fee che sto accumulando poi se falliscono se spariscono sono soldi spariti però quindi con Finpension segno solo segno maestro segno non ho ancora visto una lira però ho dei crediti quindi anche unfair poi conteggiarli nel cash flow al momento e stimarci delle tasse visto che non ho ricevuto una lira quindi meglio meglio stimo più tasse poi quando ne devo pagare di meno sono contento uguale per rosso rosso da rosso ogni tanto ricevo dei soldi quindi in teoria quello che vedete è sempre il credito a fine mese che in genere sono i crediti accumulati nel mese corrente poi verso il 20 del mese la piattaforma rossa mi paga il mese precedente quindi in teoria il 20 marzo 22 22 marzo ho ricevuto quelli che erano più o meno i crediti del mese precedente saranno conversione franco dollaro se ti fotteranno qualcosa non so quando il cambio viene preso però ho ricevuto quello che era il credito al mese precedente e a 22 aprile torno al 20 aprile riceverò i soldi di marzo quindi questa cifra qua me l'aspetto a fine aprile altri crediti è un po' complicato quelli di Mutuel che sarebbe la cassa malattia me li segno a fine mese perché loro mi sottraggono i soldi il 30 del mese precedente quindi mi trovo il 30 del mese un pagamento però che voglio attribuire al mese dopo e quindi lascio che sul cash flow si veda il conto corrente subisca un colpo però non è giusto attribuirlo a quel mese quindi mi metto un credito ma il primo del mese mi cancello il credito per cui pago effettivamente attribuisco il colpo al net worth al mese dopo accounting trick ma solo perché mi sembra onesto così viola vale come rosso anche amazon amazon affiliate bruscolini però anche lì accumulo crediti quando ricevo dei pagamenti li sottragggo dai crediti accumulati e poi c'è il trick del primo pilastro pensionistico l'ho già spiegato in un altro update di gennaio credo così via questo wow un'ora e mezza è il cash flow è il patrimonio è il net worth ora andiamo a vedere com'è stato il cash flow di gennaio di marzo tan 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 ecco il cash flow ho fatto delle piccole modifiche ho fatto delle modifiche alla storia del cash flow la prima parte sono dettagli della sole proprietorship ok le entrate che credo di voler attribuire alla sole proprietorship che però non tutte sono al momento attribuite alcune sono forse neanche tassabili non lo so sto in 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 continua evoluzione sole proprietorship la grazie a cognome g-a-u spoiler sull'iniziale del cognome quindi questi sono dettagli adesso andiamo a vedere riga per riga questo è il totale quindi questo numero qua è esattamente la somma di quelli sopra questo è il totale delle entrate della mia ditta individuale sole proprietorship grazie a me su cui mi aspetto di pagarci del primo pilastro pensionistico il totale di entrate sole proprietorship meno primo pilastro sono l'imponibile fiscale che sommo con le altre con le altre entrate imponibili fiscali e che poi stimole income tax quindi il carico fiscale ok a differenza quindi dalle entrate da self-employment e le entrate da employment sono che nella self-employment ci vago anche i contributi pensionistici su quelle da employment i contributi pensionistici sono già sottratti in busta paga e devo solo pagarci le tasse sopra quindi cosa accade come sole proprietorship come ditta individuale faccio affiliation con finpension faccio affiliation con IB in realtà come ho detto no IB purtroppo lo sto accreditando accreditando alla GmbA deve cambiare però allora perché vedete i numeri qua perché ho ricevuto anche soldi per l'old affiliation program invita invite family e friends ho ricevuto altri 1000 franchi 200 a febbraio 800 a marzo con il vecchio link che utilizzavo che però ha un limite a 30 ha un limite a 30 inviti i guadagni che puoi fare con l'invite family e friends quel limite quel guadagno là non è libero ma è è cappato vedete se inviti più di 30 persone scusate interactive brokers family and friends dove sta eccolo qua the referra friend ti fa guadagnare 200 dollari se la persona che entra con il tuo link fa qualcosa ma è cappato come ho detto a 15 referral per anno e a 30 in tutto l'anno scorso a un certo punto ho detto hai raggiunto il cap pensavo totale invece da solo dell'anno quindi in teoria forse ho ancora delle libertà di arrivare a farne altri 15 quest'anno vabbè sono bruscolini comunque l'importante è capire che è che quel tipo di referral è cappato benissimo quindi in teoria questo è ancora ricevuti e lo ricevuti come giorgio non so se ci dovrò pagare sopra qualche tassa non lo so forse i billi tratterà come dividendi quindi in fase di dichiarazione di redditi saranno dei dividendi al momento faccio finta che siano entrate da sole proprietorship quindi pessimisticamente immagino doverci pagare anche contributi pensionistici non sarà così immagino non so chi prende il referral di amazon ci paga i contributi pensionistici non so come funziona ipotizzo che anche i referral di amazon ci paga i contributi pensionistici e poi tasse vado cerco di essere pessimista più la cosa interessante di rosso è che dal 28 febbraio anche il canale rip clips è monetizzato yay e a marzo il canale principale ha fatto queste cifre il secondario queste altre cifre qui a febbraio ovviamente soltanto l'ultimo giorno ha fatto qualche soldo il canale delle clip emozione emozione però da dire che da da metà marzo in poi nel mese di marzo la mia attività da content creator è veramente calata tantissimo si respira anche in termini numerici è un po' è un po' triste vedere i numeri calare è molto triste vedere dove sta qui march vedere le views calare vedere i subscriber calare tantissimo cioè una volta ai miei tempi ne facevamo 200 al giorno adesso non si scrive più nessuno nessuno vuole bene più a rip e le revenue anche tendono a essere in trend line piuttosto negativa quindi mi aspetto se non giustamente se non ci metto molto impegno se non faccio molte cose che calino un po' questi numeri e così via quindi il totale di revenue dell'attività sole proprietorship sono state queste qua questo mese 3000 circa su cui ci pagherò primo pilastro per intero sia parte datore di lavoro che parte lavoratore che parte unemployment insurance che è altra piccola marchetta fastidiosa e in più c'è il salario della gmba il salario della gmba cioè la rip gmba fattura fa consulenze fa consulting fa altre cose fa anche refera all'interactive brokers al momento fattura e fattura anche piuttosto bene perché quest'ultimo mese sono pezzi da 10.000 1.800 1.500 questo mese avrò fatturato in marzo boh 16.000 15.000 16.000 però mi sto dando uno stipendio abbastanza basso per sicurezza per non distruggere subito il patrimonio della gmba mi do un salario piuttosto basso di 5.000 al mese 5.000 l'ordo da cui sottrarre le varie detrazioni le varie primo pilastro secondo pilastro unemployment insurance a cui però riaggiungere i 600 franchi per le tre figlie di assegni familiari e torniamo più o meno a quasi 5.000 di netto netto svizzero cioè pre-tax su cui ci pago poi income tax ci pago le tasse come pagano tutti ok income tax che stimo in questa cifra qua ma che comprendono sia il salario della gmba sia le entrate da sole proprietorship sia i dividendi questo marzo mese di fine quarter tanti dividendi tutti i miei ETF hanno dato dividendi molte stocks in teoria anche coca cola ha dato dividendi ma il pagamento è il primo aprile per cui in teoria non la vedete in questo accounting ma entrerà nel prossimo in questo mese è accounted come credito in dollari ma ad aprile diventeranno dollari veri e comparire anche nel cash flow quindi questo mese entrate sole proprietorship stipendio della gmba e dividendi meno tassi attese bla 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 circa 10.000 di entrate nette per Giorgio ok ora lo stipendio che mi do come gmba era era basso perché dico ma non so quanto guadagnerò quest'anno partiamo pessimisti come al solito diamoci uno stipendio basso da aprile però mi do un aumento di stipendio da aprile passo da 5.000 a 7.500 di stipendio è stata una salary negotiation più facile del mondo Giorgio è andato da RIP gli ha detto guarda sto lavorando tantissimo voglio un aumento di stipendio RIP ha fatto va bene te lo do e quindi da aprile mi do più stipendio è un po' una rogna perché devo contattare il primo pilastro il secondo pilastro e dirgli guarda ho stipendio più alto quindi fammi dei bill più alti però lo farò faremo sta fatica quindi mi do più soldi la GmbA sta andando bene meglio del previsto quindi rientrare ci stanno posso darmi un aumento di stipendio anche lì dovrò trovare il punto ottimale il bilanciamento ottimale tra cosa conviene e cosa è più saggio fiscalmente c'è da massimizzare un po' di cose da minimizzare tasse da pagare massimizzare minimizzare i rischi che il conto corrente di Giorgio o il conto corrente della GmbA vada a zero c'è un po' di cose da fare è complicato è complicato e non voglio delegare tutta questa roba voglio stare anche perché a me interessano numeri, spreadsheet, finanza mi interessa e quindi voglio un po' stare on top of things ho detto un mese da dividendo interessanti entrate di questo tipo qui ho il dettaglio sia delle entrate della GmbA sia delle entrate della grazie a cognome al momento così perfetto e uscite uscite eccole qui 7200 7500 7800 se andate a vedere i video dei mesi precedenti troverete numeri non congruenti anche le entrate erano diverse le uscite erano diverse perché ho fatto un refactoring ho tolto le entrate che erano della GmbA e le ho messe nel accounting della GmbA e mi sono dato lo stipendio quindi è diverso se andate a vedere la mia il mio financial update di gennaio e di febbraio troverete numeri diversi li ho fatti li ho corretti retroattivamente ho anche corretto le uscite perché alcune delle uscite che erano pagate da Giorgio in realtà erano uscite della GmbA quindi la GmbA ha restituito soldi a Giorgio quindi negli stipendi di gennaio di gennaio febbraio e marzo ci sono delle cose dei soldi che la GmbA oltre allo stipendio ha restituito a Giorgio ma anche Giorgio ha dovuto restituire la GmbA tutte quante è un cazzo di casino nell'accounting casareccio che ho fatto per la GmbA ci sta entrata o uscita chi dovrebbe questa è l'entrata o uscita delle GmbA questo qui chi l'ha pagata effettivamente o chi ha ricevuto effettivamente ha pagato Giorgio internet a casa sì deve essere riparato è stato riparato sì nel payslip di marzo la GmbA ha restituito i soldi di internet a Giorgio coaching non lo so vediamo un po' a febbraio i vari coaching chi ha ricevuto il pagamento Giorgio e quindi return to RIP via paypal nella quando non ricordo quando scriverò forse quindi questi ultimi giorni ho fatto conti di soldi che RIP doveva restituire alla GmbA e conti di soldi che la GmbA doveva restituire a Giorgio e mi è sposto il cervello anche perché molte delle consulenze le ho fatte in euro andavo a ritracciare il valore dell'euro al momento del pagamento il valore dell'euro in franchi no ho restituito gli euro Giorgio ha restituito la GmbA degli euro non so quanto sia corretto la mia commercialista ha fatto si si tranquillamente è molto figo perché tutte queste cose che sto facendo sto impazzendo però poi vado a parlare con vari commercialisti e ne so più di loro cioè loro fanno ah hai fatto così wow bravo che non ci avevo mai pensato smart e quindi fra un po' penso aprirò uno studio commercialista se faccio un po' di almeno le basi i principi di accounting penso poi di poter veramente far tutto da solo per questo con la mia commercialista voglio imparare le cose e poi magari gestire da solo se ha senso finché ha senso lo gestisco da solo quindi in genere in genere ad esempio in aprile è già successo che l'affitto dell'ufficio del headquarter ho passato il pagamento alla GMBA quindi adesso è la GMBA che paga direttamente l'ufficio questo è entrate e uscite il cash flow della GMBA da dicembre del 2021 che c'ho solo uscite a marzo anche aprile del 2022 le spese di Giorgio andiamo su marzo ad esempio ora magari le vediamo le commentiamo un po' alcune quelle che vedete di GMBA sono spese che sono azzerate perché la GMBA l'ha rimborsata a Giorgio quindi retroattivamente in gennaio e febbraio quelle che erano marcate come GMBA sono state rimborsate quindi l'ufficio 275 franchi non è più giusto che vederle nel cash flow di Giorgio perché vanno nel cash flow della GMBA piuttosto chiaro chiunque ha un'azienda le sa queste cose non è che nel proprio cash flow c'è il pagamento dell'affitto del bar che usa come azienda e quindi interessante quindi sono calate le spese a Giorgio andando nel documento di net worth vedete che le spese rispetto a non so dovete vedere il video del mese scorso sono un po' calate e questo mese sono calate ulteriormente 7200 ok sono ancora molto alte perché c'è l'affitto c'è il nido c'è l'assicurazione di malattia sono ancora alte ma sono un po' più contenute tra i 7 attorno ai 7000 guardate che 5005 sono al day one già partono 5005 la mia famiglia tra affitto asilo nido e assicurazione di malattia 232 e 1000 siamo a 5-3 fantastico 7200 questo mese e 10 finalmente il cash flow è positivo yay cash flow positivo saving rate demenziale questo mese non è anche malissimo sul quarter più o meno stiamo a 0 di saving rate entra a Giorgio quello che esce che fa ancora più divertente pensare che il patrimonio è comunque salito di 30.000 franchi senza un cash flow con una guerra in corso molto divertente 7200 di spese spese 7200 dove stanno qua eccole qua per il mese di marzo vediamo se c'è una cosa interessante da commentare assicurazione affitto e spese condominali abbiamo tutto il mese sono due mesi che combattiamo con una bimba quasi sempre in ospedale e quindi abbiamo avuto forse meno spese perché non c'era neanche il tempo di spendere soldi però molte grocery abbiamo sempre avuto qua qualcuno suocera suoceri mia madre abbiamo sempre avuto qua qualcuno per cui più persone da sfamare quindi le spese in termini di in termini di grocery sono piuttosto altine per il resto dove sta qui a marzo le spese di housing sono crollate sono più o meno quelle base soltanto affitto e così via salite un po' le spese di salute grocery piuttosto alte ma trasporti basse cena fuori quasi inesistente anche perché alcune ce ne fuori adesso ti paga la game bea business spese per le bimbe solo le assicuzioni sanitarie e pochissima altra roba c'è un leggero trend in discesa che fa piacere perché c'è il trick la game bea copre qualcosa come posso appioppare anche l'affitto di casa io ho chiesto se posso subaffittare una stanza alla game bea l'accountant ha detto però poi dopo la troveresti come income tu come giorgio però non sono convinto che sia così alla fine io sto sostenendo un costo cioè se io splittassi l'affitto di 2003 qua in 1500 a me e 800 alla game bea non c'è nessun non c'è non è un profitto è che non cioè non è che uno che subaffitta se uno va a vivere con un'altra persona e pagano metà per uno di affitto ha un income per l'altra metà quindi voglio capire questa cosa qua secondo me posso sto registrando questo non è business non è un utilizzo business di questa stanza quindi secondo me posso ancora appioppare altri 300-400-500 franchi di spese mensili alla game bea per l'affitto di casa però devo capirlo bene secondo me c'è margine ce la possiamo fare vediamo le spese di marzo se c'è qualcosa di interessante che merita di essere commentato in realtà in realtà no è stato un mese abbastanza flat abbastanza flat il tempo è stato bello sono stati un po' più fuori un po' più di bar non ristoranti fino al 29 fino al 30 del mese stavo sotto i 7000 ero super contento il 31 sono arrivati tutti i bill di dottori vari per le visite pediatriche che hanno portato una piccola bar di 300 franchi di spesa sopra i 7000 se no fino al 31 stavamo a 6900 era piacevole però ok va tutto molto bene qui devo ancora ci sono ancora delle spese che devo andare a vedere sulla carta di credito che sono pending l'ho messa 11 franchi quindi non vedo nessuna entry che merita di essere spiegata nessuna entry che ho segnato mention qui quindi non starei a perdere troppo tempo quindi saving rate del mese 27% sul quarter 7,5% 1800 franchi risparmiati su 24000 entrate c'è molto virtualismo qua da aprile mi aspetto di aumentare la parte employment di alzarmi lo stipendio non so come andrà la parte sole proprietorship sto streamando di meno quindi mi aspetto un po' meno streaming mi aspetto un po' meno affiliation non lo so non lo so cliccate cliccate su mrr.trip slash ib che in metà dei soldi li mettiamo nel portfolio troll non lo so non lo so ok questo è quanto questo è più o meno quanto per per quanto riguarda l'update finanziario gli altri tab li conoscete già l'asset allocation andiamo a vedere il cape quant'è ma già lo so che è diminuito sulla effettivo razionalità di utilizzare il cape come metrica per decidere su cosa investire ne abbiamo parlato nei commenti a un video precedente 28,4 il country world cape 24,8 secondo la mia formula dovrei quindi essere un po' più aggressivo ma in realtà dovevo già essere molto meno aggressivo prima la mia formula mi dice ehi guarda che dovresti ancora vendere stocks e comprare bond ma di brutto e hai anche un po' troppi soldi in fun ma in questo fun ci sta dentro anche cosa ci sta dentro anche rip la mia gmba se la gmba cresce accumula soldi tono fan quindi devo fare delle modifiche non le farò oggi non sono soldi fan soldi della gmba quindi devo fare delle modifiche le farò questo non so come risolverlo perché non voglio comprare bond però non voglio neanche essere così tanto esposto a stocks si risolverebbe facile se il secondo pilastro di finpension lo spostassi tutto quanto in bond però è una merda non lo voglio fare quindi ci penserò ci penserò questo è da cambiare il formato text wrapping clip perfetto andamento del patrimonio storico piacevolmente in salita buy asset class l'esposizione in stocks comincia ad essere molto alta quasi un milione in stocks un po' troppo un po' troppo sono i massimi storici storicissimi di quanto mai si è stato esposto in stocks in un periodo così ad alta volatilità non mi piace income 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 questo è brutto da vedere è brutto da vedere perché questi sono gli ultimi mesi quindi visti visti di per sé guardando relativamente alle entrate e uscite cash flow quasi zero sono soddisfatto se però guardo cosa ho lasciato sul tavolo quanto entrava ai mesi precedenti e c'è un piccolo c'è un piccolo boom crollo salirà salirà già la parte stipendio salirà al prossimo mese spero di far salire un po' tutte le altre cose però va bene così ho un mi posso permettere di concentrarmi su cose che altre cose che hanno valore per me e sono molto contento di questo se lo vediamo anche le spese anche le spese hanno un trend in calo perché un po' di spese le fa la game è perché oggettivamente abbia fatto un po' meno cose e fra un po' mia figlia finirà il nido per cui fra un po' dovremo avere un bel sollievo anche se entreranno altre spese messi in relazione entrate e uscite eh comincia è brutto quando la blu va troppo vicina alla rossa e quando la trend line su 12 mesi delle entrate va giù e continuerà a andar giù e il time to broke riparato anche questo grafico con le entrate su 12 mesi che calano mi dice che devo che devo lavorare ancora un bel po' sono molto meno financial independent però è divertente è divertente diciamo a parte gli aspetti sanitari familiari è un periodo professionalmente bello interessante e divertente vorrei fare di più come content creator voglio lavorare sulla mia startup content creation è un momento difficile è un momento difficile la famiglia chiede tanta energia ho passato le ultime 60 ore in ospedale con mia figlia piccola sono tornato a casa adesso per registrare e per adesso cominciare a fare meeting è difficile è difficile però va bene sono licenziato famiglia numerosa che ha bisogno di me che necessita la mia presenza fisica e il patrimonio sale e il cash flow è positivo va bene così va bene così anche se anche se ho lasciato sul tavolo un sacco di soldi ma che ci fai con i soldi ma che ma quali soldi passione ce vò ce vò passione ciao ragazzi alla prossima